Ritorno di nuovo a parlarvi dell'unità della lunghezza. Quando si cerca la verità bisogna partire da un fondamento che sia totalmente sicuro, certo. Quale può essere questo fondamento? Come dice la parola stessa, un fondamento è qualcosa su cui si fonda tutto quanto il resto. È proprio una base da cui si parte e essendo fissata quella base, scelta poi per tutto il resto, non è da verificare se si avvera o no. Perché è l'argomento iniziale che si accetta come basilare e sulla cui base poi si prosegue. La lunghezza unitaria fu definita. Voi dite in che modo fu definita? Quando fu definita? Nel secolo 1700 avanzato, quando in Francia l'Accademia delle Scienze, retta da grandi illuministi, desiderò che al posto di misure, tutte scoordinate tra di loro, soprattutto nell'aspetto economico, finanziario, che impedivano il cambio tra le monete, tra le economie, desiderarono di partire proprio dal sistema numerico, che è il sistema decimale, in cui l'unità è il decimo. Infatti, le nostre unità di misura sono valori decimali, perché nel nostro sistema numerico il valore veramente unitario, posto a base di tutto, non è l'unità, ma è il ciclo 10 dell'unità. Tanto che le unità interne al ciclo della decina si chiamano unità decimali. E quindi, sul criterio aritmetico della unità decimale, su questo valore 10, che è di recente stato anche trattato in campo religioso dal Benigni, quando ha parlato dei 10 comandamenti, ha fissato proprio il fondamento di ogni cosa. Un 10 di tipo lineare, tanto che l'unità sia una unità lineare simile a un vettore, avente un tracciato chiamato direzione, un verso lungo questo tracciato, e ce ne sono due uguali e contrari tra di loro, e un modulo, ossia un numero che consente di definire la lunghezza, o, se preferite, la distanza, tra i due estremi del vettore. Quando noi ne consideriamo presenti 10, stiamo descrivendo tutto l'intorno costruito con vettori lineari che valgono come modulo unitario in relazione a due osservatori. Tanto che la cosa in sé da osservarsi abbia i sei versi esistenti nelle tre dimensioni perpendicolari tra di loro e chiamate assi cartesiani, sistema tridimensionale che, visto secondo uno di questi assi, che noi possiamo chiamare l'asse Z, inserisce su questo asse Z della profondità visiva altri quattro versi, ossia due per ogni origine secondo un verso da quel centro dell'intersezione generale del sistema degli assi cartesiani. Quando noi abbiamo un sistema che è originato dagli assi cartesiani, secondo la stessa direzione si originano sempre due versi. Anche nella direzione in profondità i versi originati sono due. Sono due di quei sei versi dello spazio. Ma quando questo spazio è oggetto di una percezione visiva da parte di un osservatore che sia collocato sull'asse Z dello spazio, ecco che la distanza sua dall'origine, che è una distanza di tipo spaziale, è sottoposta a un fenomeno di azione e azione uguale e contraria. L'azione, in sostanza, è quella che parte dall'osservatore e va verso il piano, verso l'origine collocata in quel piano e l'effetto uguale e contrario è che quel piano interamente avanza verso l'osservatore. Quindi il sistema ha sei assi cartesiani. Quando è sottoposto così alla osservazione di due osservatori, aggiunge al sistema a sei assi anche azione e reazione di un osservatore e azione e reazione dell'altro osservatore che si ritrova dall'altra parte del piano. I sei vettori del piano nel suo volume sommati ai quattro valori in azione e azione uguale e contraria espressi da due osservatori formano la realtà osservata che vale quattro dimensioni perché si riferisce sempre ai due versi che sono osservati dai due osservatori uno in un verso e l'altro nell'altro quindi sono sempre quattro versi che costituiscono la realtà dell'osservazione dinamica e in più c'è l'oggetto da osservarsi che ha sei vettori per conto suo i vettori totali sono dieci quando noi poniamo in atto i due versi i due osservatori e noi postuliamo che essi osservino il tempo in dimensione uno laddove la dimensione è un indice noi abbiamo che questo indice uno è l'indice uno che si basa sui due osservatori quindi è un due elevato a uno quando andiamo a postulare le tre dimensioni dello spazio poste in relazione ai due osservatori abbiamo un due elevato stavolta a tre perché tre sono le dimensioni dello spazio e vediamo bene che due elevato a uno più due elevato a tre è il valore risultante di due come due elevato a uno più otto come due elevato a tre e due più otto uguale dieci forma l'insieme dei dieci vettori della presenza relativa all'osservazione dei due osservatori che osservano in modo uguale opposto tra di loro quando noi partiamo indipendentemente dagli osservatori dallo spazio a tre dimensioni che sono sempre indici noi ponendo questo indice tre su qualunque base come l'indice del volume quando noi vogliamo arrivare al lato di quel volume dobbiamo fare la radice cubica di quel volume fare la radice cubica significa elevare a potenza un terzo ebbene elevare un valore che è al cubo a potenza un terzo porta l'indice tre a essere tre per un terzo uguale tre terzi uguale uno di conseguenza abbiamo un primo modo di vedere le cose che si ammassa in uno e questo uno diventa il tratto lineare perché qualunque valore numerico posto con un indice che sia uno esprime il valore della base come una linea perché ha la dimensione uno lineare quando noi poniamo l'operazione esattamente uguale e contraria a quella di elevare a un terzo il che significa eseguire la radice cubica e l'azione uguale e contraria è elevare a tre noi abbiamo che un valore qualunque elevato a tre che è elevato a tre anziché essere elevato a un terzo diventa come indice il prodotto tra tre per tre diventa nove di conseguenza sommando a questo punto il valore semplicemente legato all'indice che in un caso è un indice che in tre terzi è uno nell'altro uguale contrario che non è tre terzi ma tre per tre nove abbiamo che il valore sommario negli indici uno più nove in effetti è la combinazione tra la base numerica dieci elevato a uno per dieci elevato a nove il risultato di dieci elevato a uno per dieci elevato a nove porta a dieci elevato a dieci ecco abbiamo ottenuto il riferimento unitario quando sulla base dieci che indica proprio la base ciclica su cui noi regoliamo l'unità che con la potenza dieci elevato a dieci noi indichiamo la vera unità che è data dal ciclo sia a livello di base sia a livello di esponente e allora dieci elevato a dieci significa che noi abbiamo la presenza di dieci dieci che sono interattivi tra di loro ossia dieci per dieci per dieci per dieci un prodotto che esiste tra dieci valori dieci il riferimento generale di tutto è questo ora per ottenere una lunghezza a partire da questo fondamento dell'unità dobbiamo creare una lunghezza che riguardi il flusso di una area unitaria qual è l'area unitaria essendo un'area ha l'indice due essendo un indice due legato alla base numerica che è sempre dieci abbiamo che la superficie unitaria è dieci elevato a due poiché il totale è dieci elevato a dieci nella sua unità quando dividiamo dieci elevato a dieci come un volume per l'area dieci al quadrato tutto il flusso risulta essere dieci elevato a otto questo riguarda una linea quando noi siamo in presenza di uno spazio a tre linee ognuna di esse è proprio dieci elevato a otto come flusso perché è il flusso di un'area dieci elevato a due ecco il flusso a tre dimensioni di questa considerazione unitaria data da dieci elevato a dieci è tre volte dieci elevato a otto il che significa trecento milioni ecco trecento milioni di unità è un risultato fondamentale e basilare di lunghezza massima come il flusso della sezione massima che è quella che ha per base il valore intero dieci che è il valore unitario del nostro sistema generale di riferimento numerico ecco quando esiste questo presupposto matematico e in Francia desiderano creare unità di misura che ricalcano questo metodo generale di riferimento desiderano ottenere le singole unità a partire dal ciclo dell'unità e il ciclo dell'unità per aggancio al sistema numerico che idealizza il ciclo dei numeri decimali deve ottenere anche delle unità che siano decimali ossia che abbiano il loro ciclo intero dieci si parte dunque da un dieci considerato la presenza quando noi abbiamo descritto che tutto il volume legato a due osservatori che osservino tutto in modo uguale e contrario deve essere poggiato su dieci fondamenti allora abbiamo che tutto quello che esiste dentro questa presenza qualunque forma abbia deve essere sempre dominato da questo essere dieci la presenza di ogni cosa posta questa l'unità di ogni forma deve derivare dalla conoscenza reale del ciclo dieci che esiste in realtà ossia lo spazio deve far capire quale sia il ciclo intero dello spazio la massa deve far capire quale sia il ciclo intero della massa il flusso della realtà deve rendere evidente quale sia il ciclo intero e resi evidenti i vari cicli e calcolati tutti essere dieci ecco che da quel dieci è possibile ottenere l'unità attraverso la divisione per dieci di questo valore giudicato unitario e appartenente a tutte le forme che sono contenute in una presenza generale che riguarda ogni qualità dell'esistere ora quando noi facciamo questo e arriviamo alla definizione dello spazio conteggiato in metri la necessità sta nel relativo individuarsi della lunghezza del metro perché il metro deve essere coerente al ciclo dieci bene allora il primo ciclo dieci a cui deve essere compatibile il metro deve essere alla presenza come decimo del volume terrestre il volume terrestre presente in un giorno di rotazione della terra deve essere legato a una presenza unitaria che sia decima perché tutte le presenze che sembrano esistere in modo unitario devono tutte essere decime del loro ciclo quando allora esiste un giorno anche questo uno relativo al giorno deve entrare nel ciclo di dieci giorni capito che il valore unitario della presenza del volume terrestre è uno ma all'interno del decimo bisogna andare ad agganciare tutto questo anche alla unità del tempo collocata la dimensione del tempo una qualunque la presenza della terra essa pure deve essere relativa al tempo di presenza uno che a sua volta sia dentro un valore di dieci volte quell'uno e allora vista che l'unità del tutto deve essere il ciclo il secondo è definito come l'unità ciclica del secondo tanto che un secondo sia poi all'interno di dieci secondi e come tale ne risulta che il minuto primo si regola su dieci secondi che esistano in tutti quanti i sei versi che esistono nello spazio e dieci in avanti dieci indietro a destra a sinistra sopra e sotto sono 60 minuti primi secondi scusate che formano un minuto primo il quale minuto primo a sua volta è decimo di un ciclo suo dato da dieci minuti primi e questo minuto primo a sua volta è dentro cicli che siano superiori che ciclo superiore esiste a quello del minuto primo un ciclo 38 per 38 calcolato unitario nelle decine poiché 38 per 38 determina 1444 unità decime il valore unitario della decina porta a essere 144 decine e allora saranno 144 decine di primi e avremo un giorno in questo modo è cadenzato il tutto perché a sua volta il primo è contenuto nel suo ciclo come dieci primi ma i dieci primi esistono davanti e dietro destra e sinistra sopra e sotto e con 60 minuti primi formano una ora ecco definita la ora bisogna andare a occuparsi ora della definizione intera del tempo di riferimento e quale essa è è relativa al nostro sistema binario poggiato sui due osservatori che si presenti con l'indice pieno che sia 10 e a questo punto 2 elevato a 10 rivela un risultato in termini di valori unitari che è dato da 1024 ora 1000 è il modello spaziale 10 al cubo e quelle 24 sono le 24 ore della rotazione quindi quando noi arriviamo al ciclo intero del minuto primo che è un minuto non più ma è una ora questa ora si riferisce all'intero della sua rotazione proprio come quelle 24 unità che sono contenute nelle 1024 relative a 2 elevato a 10 come vedete per ottenere il secondo si prosegue in questo modo ideale il primo modo di concepire il tempo visto che il tempo è osservato sulla base dei due osservatori perché è un evento dinamico il tempo nella sua totalità è 2 elevato a 10 nella sua totalità perché la totalità dell'indice è totale quando abbiamo 10 2 elevato a 10 è 1024 il modello in sé è 10 al cubo è 1000 quindi ci sono 24 ore di rotazione di questo 1000 e poiché un evento intero di rotazione della terra è una massa intera ideale come se fosse 10 al cubo che ruota interamente poiché 2 elevato a 10 ruota di 24 dobbiamo concepire la rotazione unitaria di tutto il nostro volume in 24 ore dopodiché dobbiamo riferirci per dimensionare l'ora a una realtà che sia costruita come lo è oggettiva su sei parametri che sono centripeti come ammassamento e centrifughi come espansione l'unità data dalla interazione tra gli opposti perché ogni interazione tra opposti dà luogo sempre a una unità si realizza attraverso il prodotto dei sei ammassamenti per i sei uguali e contrari vettori in espansione e 6 per 6 sono 36 questo 36 si deve riferire a un piano unitario che sia 10 elevato a 2 e in tal modo 36 volte 100 è 3600 la radice quadrata di 3600 porta in essere un 60 per 60 che dividono nel primo 60 l'ora in 60 minuti primi e poi la divisione successiva per 60 porta ai minuti secondi tanto che quando noi andiamo a considerare il ciclo di un minuto primo nei minuti secondi essi sono 60 quando andiamo a considerare il ciclo del minuto primo in minuti secondi essi sono 10 volte 60 essi sono 600 quindi un giorno terrestre è dato da 144 per 600 minuti secondi o se volete 144 per 10 minuti primi non la cosa la cosa che non è stata ancora spiegata bene è perché 38 per 38 perché quando noi andiamo a considerare che lo spazio in linea unitaria è espresso dal 10 e noi calcoliamo la presenza di tre assi come i tre lati di un cubo e quindi calcoliamo 10 più 30 con 40 noi abbiamo espresso le quattro dimensioni della realtà spazio temporale in relazione al ciclo 10 e da 4 diventa 40 questo modo però è espressione di un volume perché le tre dimensioni sommate al valore 1 sono indici di volume quindi abbiamo un volume che si muove nel tempo nelle quattro dimensioni e poiché è un volume che si muove nel tempo e noi vogliamo esprimere in tutta la sua lunghezza noi dobbiamo partire dall'indice 40 e sottrargli le due dimensioni di un piano unitario uno per uno che sia due in dimensioni quindi 40 dimensioni meno le due dimensioni significa dividere 10 elevato a 40 per 10 elevato a 2 ossia per tutto il piano quindi abbiamo che il 10 elevato a 38 è tutto lo sviluppo in linea che esiste in un volume 10 elevato a 40 quando si divide per la superficie di 10 elevato a 2 e con 10 elevato a 38 esprime la dimensione 38 di tutto il flusso in linea ecco perché poi il piano 38 per 38 non fa altro che mettere in atto azione 38 in un verso per l'azione uguale e contraria di un 38 nel verso contrapposto e 38 per 38 fa quel 1444 in unità e 144 in decine in cui il valore unitario dato dalle decine è quel 144 che poi abbiamo visto è un giorno se si moltiplica per 10 minuti primi ed è ancora un giorno se si moltiplica per il contenuto di 10 minuti primi che espresso in minuti secondi sono 600 minuti secondi ora avendo fissato il tempo unitario nel secondo perché quando andiamo a considerare quanti sono i secondi nella dimensione totale noi abbiamo il primo luogo tenuto conto di quel 24 presente in 2 elevato a 10 che è uguale a 1024 come le 24 ore di rotazione di un volume unitario poi queste ore le abbiamo riferite a un sistema unitario ammassato espanso 6x6 nel ciclo di un 10x10 l'unità quando noi facciamo 6x6 porta alla unità espressa infine nel secondo perché sono 3600 minuti secondi i 60 primi per 60 secondi ecco che quindi il riferimento a un giorno intero espresso in secondi risulta da 144 volte 600 il che porta al numero di 86 mila e 400 secondi ossia 864 volte il piano 10 al quadrato e vedete in che modo il valore del secondo si riferisce al sistema decimale si riferisce proprio a una superficie ideale che tralla e che è composta come 10 elevato a 2 definito in modo perfetto il secondo messo in relazione a 10 elevato a 2 ossia a 10 per 10 noi per ottenere la lunghezza ideale dobbiamo riferirci al nostro mondo terrestre il quale mondo terrestre se noi identifichiamo un meridiano ha tutta l'area interna che secondo il valore rilevato vero dalla fisica in cui ogni punto libero che percorre una orbita percorre sempre aree uguali in tempi uguali noi abbiamo che in ogni sezione del meridiano l'area interna è dimensionata in modo perfetto a tutto il ciclo che un punto presente nel meridiano percorra quel meridiano poiché il luogo dei punti totali dati da tutti quanti i meridiani impone un volume all'interno di quella linea che è sempre coerente con il percorso lineare intorno al meridiano ecco che noi possiamo riferire tutto il volume a quel meridiano ideale che lo carota come se girando per così andasse a circoscrivere all'interno un volume noi poiché abbiamo il volume regolato in maniera matematica perfetta con la circonferenza noi possiamo descrivere il volume attraverso la lunghezza della circonferenza ossia attraverso il tempo che si impiega a percorrere tutta la circonferenza e che è proporzionato proprio all'area che in ogni sezione è iscritta in quella libera percorrenza che poi porta al meridiano come al luogo dei punti di tutta la circonferenza a questo punto è evidente che un punto che percorre una intera orbita circolare percorre quattro tempi di rotazione trigonometrica perché un angolo giro è composto di quattro angoli retti e poiché il nostro sistema si poggia su una ripartizione ortogonale se noi mettiamo al centro della circonferenza della terra una origine e poi tracciamo i quattro assi che scompongono quella superficie sferica in quattro quadranti noi possiamo considerare la presenza del primo quadrante come il tempo lo è perché anche l'indagine trigonometrica dei rapporti che esistono in relazione ai lati chiamati seno coseno nei riferimenti degli angoli si poggiano su un solo quadrante perché gli altri tre sono uguali nelle relazioni che esistono solo che si diversificano da questione di segni quindi il tempo generale della variazione esiste solo nel primo quadrante retto e quello è il tempo che poi spostandosi di tre scatti spaziali completa l'angolo giro attraverso una presenza in un angolo retto e tre altre presenze in tre altri angoli retti dunque quando noi andiamo a individuare la valenza tempo il tempo unitario è un quarto del cerchio e per determinare il metro il sistema si riferisce proprio al primo quadrante e l'arco che esiste nel primo quadrante deve essere considerato unitario usando il modello matematico di 10 elevato a 10 in questo modo noi poi avremo che tutto il meridiano sarà quattro volte 10 elevato a 10 ma uno solo 10 elevato a 10 avrà la valenza unitaria quando noi ci rendiamo conto che la valenza unitaria è segno di volume e noi attribuendo al volume il volume ideale massimo il volume ideale massimo è 10 al cubo quando noi dividiamo 10 elevato a 10 come volume per 10 al cubo e otteniamo 10 elevato a 7 ossia 10.000 ebbene quello deve essere la lunghezza percorsa da 10 al cubo perché un 10 al cubo che percorra una linea lunga 10 elevato a 7 nel volume risultante è 10 al cubo per 10 elevato a 7 uguale 10 elevato a 10 10 elevato a 7 si legge 10 milioni di unità questo è il tempo in linea 10 milioni di unità poiché lo spazio in linea è tridimensionale deve avere la presenza di 3 volte 10 milioni di unità allora 10 milioni di unità più 10 milioni di unità più 10 milioni di unità sono 30 milioni di unità di presenza la presenza noi l'abbiamo definita unitaria in un secondo perché il secondo implica proprio tutto il percorso del ciclo intero percorso e la presenza anche in secondi è legata a un decimo di secondo di conseguenza noi abbiamo l'aggancio alla presenza di un decimo di secondo di 30 milioni di metri significa che 30 milioni di metri sono uguali a un decimo di secondo e quando abbiamo che il decimo di secondo esiste in tutto il suo ciclo 10 che lo porta a esistere come un secondo quei 30 milioni di metri diventano 300 milioni di metri in tal modo il metro diventa 300 milionesimo dei 300 milioni e capite bene che a questo punto acquista un valore unitario il metro perché è 300 milionesimi di 300 milioni l'unità è data da questa una quantità che si divide per un'altra quantità quando la quantità è 300 milioni e 300 milioni si divide per 300 milioni noi abbiamo un metro infatti il meridiano posto 300 milioni diviso per 300 milioni di volte porta a un metro e quindi abbiamo che un metro è unitario perché è veramente dato da 300 milioni di 300 milionesimi e il prodotto 300 milioni per metro è uno perché poiché m metro è un 300 milionesimo per conto suo è un 300 milionesimo di 300 milioni il prodotto di 300 milioni per un 300 milionesimo alias metro porta al valore uno di una presenza totale in linea di spazio è spazio di tutto è spazio di spazio è spazio di tempo è un riferimento generale perché la presenza della terra è messa in relazione non solo allo spazio ma allo spazio che gira nel tempo di conseguenza mentre è indice di lunghezza sia spaziale sia temporale perché se è 300 milioni lo è perché unitariamente è 300 milioni riferito a 100 milioni e si esprime sempre nel valore sconsuntivo di 3 a 1 ossia del rapporto tra le tre dimensioni del volume e la dimensione 1 del moto lineare e vedete a questo punto che da tutto l'insieme che noi abbiamo fondato come un sistema generale di riferimento la realtà scientifica ha fondato come base questo risultato mettendolo proprio in essere come risultato nel preciso momento in cui lo ha fondato ha fondato il suo stesso risultato perché è arrivato a riconoscere che 300 milioni di metri sono 1 come lunghezza spaziale che è lunghezza sia di spazio sia di tempo quando la lunghezza dello spazio è tre volte l'unità del tempo questo sistema di riferimento è importantissimo perché quando noi andiamo a osservarlo nella sua verità e capiamo che il rapporto 3 a 1 è un rapporto unitario perché ogni asse esiste come uno di una terna e quindi come un terzo e solo tre volte un terzo porta tre terzi quando abbiamo capito questo abbiamo capito anche il perché del valore fondamentale da darsi all'unità e trinità quando al posto dell'unità e trinità dello spazio tempo noi andiamo a mettere qualcosa ancora di più fondamentale di ancora più basilare nella sua costruzione quella realtà divina che è poi quel criterio generale su cui poi si poggiano tutte le cose perfino i numeri e quindi andiamo a imporre alla base del sistema a un verso come il tempo e tre simultanei a indicare il volume che siano perpendicolari tra di loro andiamo anche a esprimere in modo oggettivo quel valore ideale del dio fondamento di tutto uno e trino che è quello chiamato così da Gesù Cristo quando parlando del fondamento che esiste all'origine di ogni cosa lo ha chiamato padre figlio Spirito Santo come tre infiniti assi aventi ciascuno la sua direzione uguale e distinta perché bisogna distinguere esattamente padre rispetto a figlio e rispetto a Spirito Santo padre figlio e Spirito Santo tra di loro hanno un solo punto in comune la loro intersezione hanno in comune solo la loro origine proprio come quella origine del sistema di assi cartesiani in cui quando esiste solo la pura origine esiste un punto geometrico senza alcuna dimensione reale è la presenza fondamentale di un qualcosa che non ha dimensione reale ma esiste come pura origine è proprio l'origine divina fondamentale su cui poi si poggia la creazione reale quando da quel punto entrano in atto tre differenziazioni come padre figlio e Spirito Santo che creano il tutto attraverso tre linee di azione uguale e distinte ciascuna delle quali è infinita e quando voi capite una cosa del genere e come cristiani assegnate al figlio Gesù Cristo la stessa sostanza del padre è perché il figlio con il padre hanno in comune la stessa origine la quale è al di là del tempo è una origine che è la stessa però quando entrano in azione non sono la stessa cosa il figlio ha un tracciato il padre ne ha un altro e la presunzione fatta dai cristiani che essendo stato tolto di mezzo il figlio sia stato tolto di mezzo anche il padre è una presunzione totalmente falsa perché il figlio ha un tracciato il padre ne ha un altro bisogna togliere di mezzo anche il tracciato del padre se si vuole ricondurre anche il padre lì in quella comune origine e bisogna togliere anche il tracciato reale dello spirito santo se si vuole che anche lo spirito santo rientri in quel puro punto di origine che sia poi anche il punto di fine di scopo finale di ogni cosa ma poiché le cose che riguardano il volume reale nostro sono sempre scomposte in due fondamentali operazioni una riguarda il piano del flusso e l'altra in linea unitaria rappresenta la linea del flusso abbiamo che il padre è un padre duplice perché è la potenza del flusso e il piano è generato da padre e spirito santo è un piano il quale come figlio avanza solo in un asse ecco allora nel momento nel quale fu tolto di mezzo quel figlio reale Gesù Cristo al quale si riferiva il tracciato del figlio l'uomo non poteva immaginare o arguire o credere che con esso fosse stato tolto di mezzo anche il piano di padre e spirito santo ed è per questo che nella fede tratta da quella linea di azione antica iniziata con la bibbia e l'antico testamento e proseguita poi in linea dal nuovo testamento di Gesù Cristo come un unico flusso in linea doveva entrare in azione uscito da quello stesso ceppo di Abramo doveva uscire un piano trasversale che fosse contrapposto perfettamente alla linea di azione del figlio questo piano di totale contrapposizione è stato fornito dall'Islam che si è contrapposto come un intero piano non solo alla linea del figlio Gesù Cristo ma alla linea dell'antico testamento e del nuovo testamento che è una linea in continuo in cui il nuovo testamento ha accettato la sua origine dell'antico testamento non rigettandone proprio nulla ma ecco che la condizione trasversale contrapposta a questa linea comune di azione religiosa espressa da ebraismo e cristianesimo si è espressa proprio per contrapposizione o l'uomo è in grado di far rientrare questa contrapposizione essa pure affinché ritorni in quel punto di origine comune legato al figlio oppure l'uomo continuerà tutta questa lotta di religione che oggi esiste ed è esacerbata proprio da quell'aspetto deleterio dell'islam che si esprime attraverso i vari califati di una fede islamica che è la fede in un dio mostruoso che porta in paradiso i propri adepti se essi fanno opera di uccisione proprio di contrapposizione addirittura vitale nei confronti di chi abbia le altre due religioni del ebraismo e del cristianesimo che sono la linea trasversale a quella se questo mondo non è in grado aiutato proprio anche dalla verità di una logica che io vi sto descrivendo in modo spazio temporale se non è aiutato a capire che annullata la linea ebraico cristiana ricondotta in un punto bisogna che accada lo stesso al piano dell'islam e che si ritorni a quel punto in comune che esiste e che era in comune quando esisteva il solo padre abramo che è l'origine di ogni cosa fino a che il tutto partito da abramo e che si è scomposto in questo modo scomposto che vedete non si è ricomposto nuovamente in un punto unico di arrivo fin quando ciò non accade e non si sintetizzano le tre fedi stavolta espressi come assi della fede l'ebraismo il cristianesimo e l'islamico fin quando non si fa questa opera generale di reduxio ad unum di riportare il tutto in uno non si arriva a avere nel nostro mondo reale quella reale opera di una fondamentale giustizia ma si mantengono in essere e in vita tutte le contrapposizioni che non hanno alcun valore perché se esistono in natura le tre contrapposizioni dei tre lati è perché devono collaborare tra di loro per la generazione di un volume unico quindi il volume di Dio deve avere tre lati uno considerato nell'islam l'altro nel cristianesimo l'altro nell'ebraismo a generare l'unità di un Dio che sia un Dio che sia ricondotto all'unità di Abramo solo in queste condizioni avremo veramente la giustizia in questo nostro mondo reale la giustizia nei confronti di una fede che cessi di essere sorgente di disaccordo e diventi proprio quella interazione simile a un prodotto che moltiplichi il potere dell'ebraismo al potere del cristianesimo e al potere dell'islam immaginate quanto bene può venire fuori all'umanità quando queste tre fedi si moltiplicano tra di loro anziché cercare di avvalersi soltanto della loro unità l'unità di ciascuna è una linea ma per ottenere un volume unitario bisogna far interagire le tre linee e allora solo avremo che una per l'altra per l'altra genera nella vita del mondo divino ossia quella che le va a giudicare a livello fondamentale quello che accade in un volume reale che da una linea che di per sé è un solo flusso quando ne abbiamo tre che sono uguali e contrarie tra di loro perché perpendicolari l'amore che possa legare ciò che è contrapposto confluisce un intero volume di amore che è il massimo perché è proprio fondato sulle massime contrapposizioni che esistono e che sono state generate all'interno della stessa unità